ciao bentornati e bentornati in questo video voglio farvi vedere quali sono le istruzioni per giocare la partita perfetta tris cosa si intende con partita perfetta primo vuol dire che non perderete mai secondo significa che metterete l'avversario in difficoltà cioè giocando in questo modo se l'avversario commette anche un solo errore perderà la partita se però anche il vostro avversario giocherà una partita perfetta allora finirà in parità può sembrare che questo video centri poco con la matematica ma in realtà il fine anche quello di introdurre il concetto di algoritmo algoritmo è una parola molto sentita però non sempre ne è chiaro il suo significato in realtà algoritmo vuol dire qualcosa di molto semplice è l'insieme ordinato di istruzioni necessarie per risolvere un problema il termine problema è da intendersi in senso lato ad esempio una ricetta di cucina può essere considerato l'algoritmo necessario per cucinare correttamente un certo piatto tuttavia il termine algoritmo è più utilizzato per risolvere problemi di natura matematica quindi le escruzioni a volte sono dei calcoli da eseguire per ottenere un certo scopo ad esempio l'algoritmo per risolvere un'equazione di secondo grado ora veniamo al tris il tris è un gioco di logica e un gioco può essere risolto risolvere un gioco vuol dire trovare le istruzioni cioè l'algoritmo per giocare in modo ottimale una partita in generale l'algoritmo può essere molto complesso per questo ho scelto il gioco del tris che un gioco estremamente semplice l'algoritmo del gioco degli scacchi non credo che sia mai stato trovato perché vorrebbe dire trovare le istruzioni per giocare la partita perfetta ma una partita a scacchi si può sviluppare in miliardi e miliardi di modi differenti quindi è molto difficile però se prendiamo anche un gioco semplice come quello del tris noi abbiamo l'idea che per diventare bravi dobbiamo fare tante partite e poi utilizzare l'esperienza acquisita in queste partite in realtà noi possiamo anche procedere in modo più razionale e studiare il gioco a tavolino senza fare neanche una partita e capire qual è la strategia migliore vi faccio quindi vedere come ho trovato la strategia per giocare la partita perfetta tris io mi sono limitato al caso in cui inizio a giocare per primo però osservando le possibili mosse dell'avversario potete anche sfruttare questa strategia per capire come difendervi nel caso in cui sia l'altro a giocare per primo quindi immaginate di iniziare per primi e avere la x come simbolo avete nove caselle libere ma sostanzialmente avete tre possibilità cioè potete giocare ad angolo potete giocare a metà di una fila laterale oppure potete giocare nella casella centrale le possibilità sono tre non nove perché le altre sono sostanzialmente simmetriche cioè se la x anziché metterla nell'angolo in alto a sinistra la mettete nell'angolo in basso a sinistra o in basso a destra è sostanzialmente la stessa cosa appunto per ragioni di simmetria ok la scelta migliore è quella di giocare nell'angolo infatti ho previsto tutte le possibili contromosse dell'avversario nei tre casi e ho visto che quella nell'angolo è quello che porta a maggiori probabilità di successo ora per non far diventare il video troppo lungo mi limito a illustrare questo primo caso ma potete verificare voi stessi che negli altri casi l'avversario è messo in minore difficoltà infatti se voi giocate in un angolo l'avversario ha ancora otto caselle libere quindi può rispondere in otto modi diversi può rispondere in questi primi quattro modi cioè mettendo la sua o laterale a metà non ho mai capito se una o o uno zero ma non ha importanza oppure può metterla centrale oppure può metterla anche lui ad angolo restano appunto tre angoli liberi in questa fase si ha l'impressione che la partita sia ancora aperta in realtà non è così perché se lui fa sette mosse su otto ha perso e voi avete vinto ovvero l'avversario si salva solo se gioca la casella centrale in tutti gli altri casi non ha più alcuna possibilità di vittoria se voi fate le mosse corrette ovviamente infatti è sufficiente che voi mettiate la seconda x nell'angolo evitando la sua o e questo può sempre essere fatto vedete due x nella prima riga orizzontale 2x nella prima riga verticale eccetera ora l'avversario è obbligato a mettere la sua o in mezzo alle vostre x se non lo facesse voi avreste vinto ma noi supponiamo che l'avversario non commetta errori banali ora con la prossima mossa potete chiudere la partita perché potete posizionare la x in modo da aprire due tris e quindi il vostro avversario non potrà più difendersi ad esempio se l'avversario non ha mai giocato ad angolo come nei primi quattro casi e è sufficiente mettere la x centrale e avete due tris lungo le due diagonali e quindi il vostro avversario se mette la o in basso a sinistra fate tris su questa diagonale se mette la o in basso a destra fate tris sull'altra diagonale se invece il vostro avversario ha già giocato ad angolo come negli ultimi tre casi basterà mettere la x in un altro angolo e anche qui avete due tris aperti vedete questo lungo la diagonale e quest'altro quindi sintetizzando se la prima giocata la fate nell'angolo il vostro avversario avrà otto risposte possibili e di queste sette vi porteranno alla vittoria vediamo ora il modo migliore per condurre la partita se il vostro avversario risponde al centro in tal caso voi rispondete sulla stessa diagonale a questo punto al vostro avversario rimangono sei possibilità perché ci sono sei caselle libere può giocare la sua seconda o non in un angolo e a quattro modi per farlo oppure in un angolo e a due modi per farlo se gioca non nell'angolo la partita finirà in parità se invece gioca in un angolo di nuovo avete vinto infatti nel secondo caso vi basterà giocare voi l'ultimo angolo e di nuovo si aprono due tris uno verticale e uno orizzontale quindi lui non potrà difendersi invece nel primo caso finirà in parità perché si può verificare facilmente che ci si blocca vicenda con una serie di mosse successive a meno che uno non abbia una svista e non veda un tris ma noi escludiamo questo caso se il vostro avversario già conosce le contromosse potete applicare una variante cioè giocare la x non in un angolo ma accanto alla o del vostro avversario vediamo come fare con questo secondo schema se il vostro avversario gioca così voi avete vinto perché di nuovo si aprono due possibili tris uno sull'orizzontale uno sulla verticale se invece il vostro avversario gioca in quest'altro modo allora non potete attuare questo schema e di nuovo la partita finisce in parità a questo punto ho cercato un gioco del tris online e ho fatto alcune partite io sono la x inizio per primo come vedete il computer non gioca una partita perfetta altrimenti sarebbe impossibile vincere e quindi applicando questa procedura io vinco sempre se ti interessano matematiche fisiche puoi iscriverti al canale trovare tantissimi materiali che ti possono essere utili sia per i tuoi studi del superiore dell'università o anche se sei interessato alle materie come semplice appassionato ciao e grazie